E allarme impoverimento sociale in provincia di Ragusa ha meno di 40 anni in media che a Comise Vittoria si rivolge ai centri Ascolto Caritas per chiedere sussidi. I centri Ascolto Caritas sono sempre meno, quindi un punto di riferimento per soli immigrati. L'utenza comprende oggi il nuovo ceto sociale dei nuovi poveri italiani. Chi sono i nuovi poveri? Tutti coloro che prima avevano la certezza di un posto fisso di lavoro e l'hanno persa. Sono quelli che prima facevano parte del ceto medio e oggi si ritrovano a chiedere un pacco di pasta per sfamare i figli. Sono i giovani che non hanno neanche la speranza di un lavoro, di uno stipendio. Quelli magari che hanno rischiato creandosi una famiglia senza avere prima delle certezze economiche. Ad accendere riflettori su questo dramma sociale sono i dati Caritas dell'Osservatorio Diocesano Povertà e Risorse, pubblicati il 29 marzo scorso. Il titolo emblematico del dossier la dice lunga sui disagi che vive la nostra società educhiamoci alla libertà in ascolto della povertà negli anni della crisi. Tra i bisogni e gli interventi posti in essere dal centro ascolto di Vittoria il dato più eclatante è che l'87% dell'utenza è dato da italiani e non da stranieri che decidono di rivolgersi ai centri Caritas a causa di un reddito insufficiente, disoccupazione, problemi familiari, abitazione e salute. Interventi per bambini, 117 bollette, 42 affitti, sono questi solo alcuni degli interventi forniti a Vittoria. Stessa situazione se non peggior accomiso dove sono state richieste 25 bombole, 9 affitti, 72 bollette, 100 buoni pasto. Le strutture di assistenza Caritas, così come quelle parrocchiali, forniscono sussidi praticamente di ogni tipo dall'abbigliamento ai buoni pasto, ai libri per i bambini a scuola, al riscaldamento in uno degli inverni più rigidi e non solo dal punto di vista meteorologico. Nel corso del 2011, spiega la Caritas, i volontari dei centri ascolto hanno effettuato oltre 2.000 interventi di ascolto, più di 3.000 le persone interessate dagli aiuti dei centri. Di queste, 800 sono minori, il 77% è dato da italiani, con un'alta percentuale di separati. I problemi economici hanno anche un effetto deleterio sulla salute psicofisica. La Caritas sottolinea infatti l'aumento di persone con problemi di salute o psicologici, circa un caso su 6. Grazie.